Muove i primi passi in quel di Varese, concretamente l'associazione fondata da Fabio Lunghi che sceglie una location in pieno centro come lo spazio TD Group di Piazza Repubblica è un tema che più attuale non si può, l'intelligenza artificiale. Capire le potenzialità, i pericoli e valutare anche dal punto di vista etico cosa si può fare per governare l'intelligenza artificiale e non essere governato. E così il nutrito pubblico di manager, professionisti, imprenditori e curiosi vive un'esperienza da film col professore Luke Luca Mari che prima di relazionare i presenti chatta con un robo di ultimissima generazione scambiando battute e considerazioni che nulla centrano con le macchine preimpostate di un tempo quelle di adesso al contrario imparano, si evolvono, guadagnano terreno tanto che oggi sta a noi rimanere al passo. Come lei giustamente ha detto non sono programmati ma sono addestrati sono dei sistemi in cui il comportamento non è predefinito ma è guidato dai dati data driven. In che direzione? In una direzione che non sappiamo. Facciamo in modo che questi siano dei sistemi che ci abilitano e che ci rendono migliori invece che sostituirci. È la prima volta nella storia dell'umanità che noi abbiamo un laboratorio cognitivo con il quale confrontarci, come dire uno specchio della nostra mente che non è uno psicologo, non è un'entità che ha il nostro stesso DNA ma è un pezzo di software e questo è straordinario.